Buon pomeriggio a tutti, eccoci in diretta con la nostra riunione di redazione, saluto Pino Vaccaro, ciao Pino Ciao Federica, buona giornata a tutti Un saluto ad Andrea Longoni, ad Alfio Musmarra, a Matteo Zurloni Ciao, ben ritrovati Allora, mi sembra doveroso partire da quello che è successo ieri sera, parto dagli sconfitti, dalla crisi che c'è in casa Milan Andrea, non fare quella faccia, però è così Sì, esatto La faccia anche prima della trasmissione Non posso fare facce diverse Ma va, rideva 30 secondi fa, adesso è triste È il giorno in cui dobbiamo analizzare quello che sta succedendo in casa Milan, quali sono i problemi Ecco, io un po' vi ho seguiti anche ieri sera e sentivo che tu parlavi di qualcosa che si è rotto dall'interno Sì, mi sembra evidente, purtroppo i segnali erano già numerosi e rumorosi Però non posso parlare con Pino che se la ride sotto i baffi tutto il tempo Sì, la ride perché siamo pronti Scusa, ma ieri sera Pino ti fava per voi Siamo pronti No, no, ti fava per voi C'è che l'ha detto? Tu No, ho detto che vince il Mena Ho detto che vince il Mena Un colpo di fortuna Un tempo era un amuleto Vabbè Detto questo, è una crisi, ma non una crisi normale, è una crisi profonda Se analizziamo il 2023, vinci con la Serenitana, quasi la pareggi Vinci con la Roma di Vaccaro e poi la pareggi Perdi con un uomo in più col Torino in Coppa Italia Con il Lecce pareggi, ma come sei perso con un primo tempo indecoroso E ieri speravi che è una finale, è una partita che si prepara da sola Hai la squadra rivale, più rivale che ci sia C'è un trofeo in paglio e si è sceso in campo ancora Come se dovessi andare a prendere una granita con Vaccaro Ho capito, ma sembrano umelia funebre però C'è ragazzi, c'è un umelia funebre sì, ma però dai Non è una partita Purtroppo è un momento di crisi profonda Io lo riconduco a un, ma non solo io, un fattore mentale Ieri per la prima volta finalmente Pioli ammette che c'è un momento difficile Da punto di vista mentale Rimando tutti a Tonali il 21 agosto Che dice fuori dal campo è un momento difficile Dobbiamo dimenticarci lo scudetto Ha inquadrato quello che poi sarebbe accaduto purtroppo E adesso c'è una squadra che ha l'encefalogramma piatto Non riesce a reagire, non ha mor proprio Poi ci sono tante cause partendo dalla proprietà Ne parleremo, la società, l'allenatore È una crisi profonda da punto di vista mentale Preferirei fossero le gambe Ma purtroppo le gambe sono una conseguenza della testa Matteo? Io vedo una questione molto caratteriale Psicologica, mentale Il Milan che ci aveva abituato all'ultima parte di stagione dell'anno scorso Era un Milan che... Ma lo abbiamo detto un sacco di volte Io l'ho ripetuto un sacco di volte Che in quel momento potevano giocare chiunque Comunque entravi in un contesto in cui C'era un'identità chiara C'era tantissimo entusiasmo Anche giocatori con qualche limite tecnico Riuscivano a dare qualcosina in più Questo Milan qua fa fatica Innanzitutto ha pochi giocatori con tanta leadership Io vedo semplicemente Teo Vedo Tonali che è un giocatore che possiede leadership Giroud Le ha un punto di domanda Perché magari caratterialmente non domina Però ha una grande tecnica Ma se la squadra come concetto proprio di squadra Non gira I vari Messias Brahim Diaz Calabria Tatarusano Benassero no Però insomma anche lui non è che abbia giocato benissimo ieri Vengono a meno Vengono a meno Diventano giocatori banalissimi Stamattina la gazzotta scriveva Pioli ha perso il suo Milan È così? Secondo me in parte Io ho paura Mi metto nei panni del tifoso rossonero Io ho paura che un pochino si sentano Non ti dico appagati Innanzitutto diciamo che vincere è difficile Ma riconfermarsi è ancora più difficile Questo è un concetto che deve passare Perché i tifosi magari si aspettano La vittoria di un altro Scudetto Le ambizioni salgono perché hai vinto il campionato Di conseguenza devi per forza replicarlo Ma non è così Non funziona per forza così Non è che se l'hai vinto un anno lo rivinci l'anno dopo Perché uno ci sono anche altre squadre Altre squadre anche forti E due comunque non è facile La stagione con zero titoli Perché se è uscito dalla Coppa Italia Non hai vinto la scuola Fede è una questione tanto di squadra Però per rispondere alla tua domanda Pioli ha perso il suo Milano oggi Sì oggi magari lo ritrova domani Però vedi chiaramente Che non riesce più a incidere nella testa Quando tu il 30 di novembre Annulli il giorno libero Perché la gara fa male col PSV E poi non ottieni benefici Quando tu dopo la gara persa col Torino Dici no non andate a casa Andiamo tutti a Milanello È chiaramente una scelta punitiva E non ottieni benefici Significa che in questo momento Non riesci più a entrare nella testa dei giocatori Cosa che invece l'anno scorso ti riusciva Lo scorso anno c'era un'alchimia C'era un gruppo pulito Compatto In campo e fuori Quest'anno quell'alchimia è venuta meno E chiaramente È il manico che deve metterci del suo Oltre i giocatori E non riesce più in questo Da un punto di vista tattico Poi ieri ha clamorosamente E gravemente sbagliato la formazione Io ho visto i tonali giocare molto alto Tonali ha giocato molto più alto Ho visto una formazione Ho visto un Milan molto diverso Da quello che ero abituato a vedere Cioè ho visto un Tio Hernandez Il fratello Non quell'altro forte Ma di quello che ero abituato a vedere Ho visto un Tomori irriconoscibile Ho visto una squadra scarica E questa cosa mi è sorpreso Perché il Milan tendenzialmente Le preparazioni non le sbagliano Il Milan parte Dopo le preparazioni parte sempre a 200 Il Milan che ho visto ieri sera Ma anche che ho visto nelle ultime partite Una squadra che sembra aver smarrito Forse non è un problema fisico Forse non è un problema fisico Per come l'ho vista Ero abituato a vederlo io Con le grandi squadre Anche se il Milan con Lecce Parte male Ma al secondo tempo va a 200 Quindi è per quello che dico anche secondo me Perché anche contro la Roma 70 minuti di intensità pesante Cioè se fisicamente stai male Quei ritmi non puoi venire La sensazione Lo dicevo ieri sera Allora io non ero uno di quelli Che sosteneva che Ibra fosse Il motore trainante Anche perché fisicamente ormai Anche te è il totem Anche te la figura totem È arrivato Però devo dirti Che da quando non c'è più Io non so se è una casualità Però questa cosa mi ha fatto riflettere Ad esempio ieri perché Non è andato a vedere la partita Prima era sempre in panchina Ormai La Roma era in panchina Per dire Beh è rimasto Adesso è rimasto da Milano Ah lo volete C'è proprio lì piazzato Che bisogna guardare Ti corrego Siccome dici che è in panchina Non era in panchina Non era in panchina Ieri è rimasto a Milano Lui è rimasto a Milano Lui è rimasto a Milano Lui è rimasto a Milano Ho visto che era Ma non è panchina Lì è dietro la panchina Beh ho capito Però i giocatori Se si può fare Suggestionare lo vedi Anch'io rifiutavo questo concetto Pensavo che il Milano Avesse imparato a camminare Sulle proprie gambe Cioè non vedi che Adesso è Non vedi che si è Completizzata la maturità La cosa grave è che Quando tu vinci lo scudetto Devi proseguire nel procorso di crescita Invece il Milano Sta facendo passi indietro Su Ibra E dico è lì Non gioca Proviamo a metterlo più Costantemente nello spogliatoio Lui ieri non è andato Per continuare ad allenarsi La figura balia diventa offensiva Per gli altri La figura? Balia Però era offensiva già prima Quando Ibra Lo premiavano E diceva Però all'inizio Sai cos'è All'inizio Quando Reduce dal 5-0 Di Bergamo Che parte da lì Il Totem E però Allora Ma è sabito il campionato Cos'è di fare Devi fare ancora di Vecchia Anch'io pensavo Invece Proviamo questo Però aspetta Pino Però aspetta I giocatori Sono sempre gli stessi Sono addirittura La rosa paradossalmente Forse peggiorata Rispetto all'anno scorso Non paradossalmente È peggiorata I giocatori Mi spiace dirlo Ma i giocatori del Milan Dei titolari Magari 4-5 Sono dei giocatori Molto forti Gli altri 4 Gli altri 5 Non sono dei giocatori Di altissimo livello E lo dimostrano Io prendo il Napoli Per esempio adesso Per far capire Quanto è importante L'aspetto mentale Ma onestamente Il Napoli Gioca benissimo a calcio È il concetto di squadra Per eccellenza quest'anno Ma giocatori come Demme Mario Rui Io metto dentro anche Kim Poi vi prenderò gli insulti Ma Kim a me non piace Ma sono giocatori Che fanno Che sono campioni Ma Demme non gioca mai Caro collega L'anno scorso anno Il Milan era il Napoli di oggi Il Milan lo scorso anno Non era la squadra più forte Era la squadra più squadra E se tu hai questa peculiarità E la perdi Diventi una squadra Normalissima Molto vulnerabile Ma quando Quando viene meno L'essere squadra Quando non fai più le cose Al 100% Quando con la testa Ti senti inconsciamente Appagato Sì è bastato l'asticerno Quando inizi a mandarti A quel paese in campo Ti viene meno Perché non hai 11 fenomeni Ne hai magari 1 o 2 Di ottimi giocatori E qualche campione sicuramente E Teo Hernandez Però l'insieme Era forte lo scorso anno Questa no Il Milan non ha più Quel concetto di squadra Ce l'ha molto bene il Napoli Che fa risultare poi Tutti terribilmente forti L'obotica non sembrava Quello che è oggi O magari l'anno prossimo Vincono lo Scudetto E sono anche loro appagati Ma il fattore mentale Purtroppo Però io C'è stato un periodo La valutazione tecnica Che dai Non sono tanto d'accordo Perché Guarda Tu prendi il Milan Oggi non c'è il portiere Che quello pesa tantissimo Perché è un fenomeno Certo Però il terzino sinistro Che c'è al Milan Non c'era nessuno Tomori fino a un mese fa Era un centrale di riferimento importante Però Pino Ma senza pensare a loro Scusami Salemakers Barra Messias No Quelli no Brian Diaz Brian Diaz E te l'ho detto anche l'altro giorno Calabria con tutto rispetto per Calabria Ma Calabria I due centri di metà campo Ce li hanno in pochi I due centri di metà campo Sì io dico il Milan è forte Il Leao è fortissimo Ma deve essere gruppo compatto squadra Questo sì Non era l'anno scorso La squadra più forte del Milan Era la squadra più squadra Sto stanno è venuto meno quel concetto Ne parlavamo ieri sera con Andrea La foto è il Leao Che tira la metà campo Due o tre volte Tira la metà campo Dopo quello ha fatto anche col Torino Ma perché Gli altri Ma che è in difficoltà Cioè Una volta il Milan giocava di insieme Ieri era Fala Leao E inventati qualcosa Ma tu hai visto la faccia dei giocatori A parte che Leao Voi direte una cavolata Ma Leao che non sorride Da tre o quattro partite Lui è molto brasiliano in questo Vedi che c'è qualcosa Che non va bene Ieri tu C'è un po' polemico Lei mi hai visto fare una smorfia Ma non sorride Neanche la sua posizione Ma oggi non sorride nessuno Era inerme rispetto a quello che accadeva Anche a livello di espressione Li vedi che Alcuni sembrano essere altrove Ti stai giocando una finale Contro la squadra Che La tua rivata È nemica Da un punto di vista sportivo L'errore che fa Tonali E di sicuro non ci avete messo grinta L'errore ed è grave Alla fine fa più fallo l'inter E io Tonali è uno di quelli che salirei Quello è l'aspetto mentali Ieri Tonali ha fatto malissimo Non a livello di prestazione di ieri In generale Secondo me Quello comunque Che rispetto ad altri È più concentrato Quella roba di Alzo non può fare Ieri è uno dei peggiori Tonali ieri Su quel gol lì Fa un errore clamoroso Secondo me è più grave L'errore di Tomori È altrettanto grave Ma sono errori Non di gamba Sono errori di una squadra Che è scollegata Da un punto di vista mentale La gamba dice Ho fatto la preparazione Poi tra un paio di partite Trovo la forma La testa Se non l'hai trovata Dopo che prendi due gol Con la Roma Dopo che perdi col Torino Dopo che con Lecce Fai i disastri Non sono sicuro Ma non sono concentrati Perché? Sono concentrati perché Pensano di essere arrivati? Perché si è rovinata L'armonia nello spogliatorio È crollata quella magia Che portava Un'atmosfera positiva La vedi che non c'è più Quella alchimia L'anno scorso entrava Krunic E ti decideva la partita Krunic Quest'anno Fa fatica Gioca di più forti Fortunatamente Rientrerà con la Lazio E c'è anche Il discorso tecnico Legato a Pioli Beh le scelte iniziali Di Pioli Ieri commentavamo La scelta di far partire Messias Al posto di Salemakers Per me quello è stato Un errore È stato un errore Clamoroso Inspiegabile Un conto dici Poi perdere per quello Perdi per quello Salemakers Ma ti metti Nelle condizioni Di perdere sicuramente Ma inizia a scendere Quando tu sei così Non devi essere presuntuoso Quella è una formazione Da squadra Che sta benissimo Che si mangia gli avversari E sei presuntuoso Devi essere umile A partire dalle scelte tecniche Se giochi contro l'Inter In un momento In cui prendi due gol a partita Nel 2023 Milan prende quasi Due gol a partita Credo che saranno Un 1,8 Non puoi giocare con Leao Giroud Brahim Messias Però con quella tensione Come fai Come fai a fare una scelta Di genere questo Non me lo spiego Però con quella tensione mentale Sì Magari potevi Perdevi Inizia Inizia a essere Un po' più abbostonato Sì Ma ieri Magari non prendi Quel gol lì Magari non prendi Quel gol lì E può cambiare la partita Secondo me c'era Ieri c'era troppa differenza Al punto di vista della voglia Cioè tu vedevi Una squadra che voleva sbranare Non a caso Ciannogo che termine usa Le abbiamo mangiati È il termine giusto Perché è stato proprio Lui ha sbranato Cioè loro hanno sbranato Sul campo Però il Milan Fino al gol Non stava giocando male No Sì però Didattici Poco Sì ma non stava giocando male Capisci che non prendi Quel gol lì Prendi le misure Inizia a essere un po' più abbottonato Il Milan lo scorso anno Diventa squadra imbattibile Due gol nelle 11 partite Non giocava col trequartista Giocava col centrocampista aggiunto Sì secondo me Ha peccato un po' di presunzione Anche Pioli Perché In un momento in cui Non sei equilibrato Mettere giù Quella formazione Sbilanciata Loro hanno impostato subito La partita Inizia a pressare Quasi nella nostra L'area di rigore Preso poi Tre giocate Con dei tagli Degli attaccanti Dritto per dritto T'ha tagliato come il burro Cioè Se vedi che fisicamente Psicologicamente Non stai bene Stai un attimino più Più abbottonato Tutti su Secondo me Le avreste battuti 20 minuti Ma ragazzi Questo io non ce l'ho La speranza Per me Non è la fine rigore Fedevi proprio È stato troppo semplice Non stanno andare sotto Dopo 20 minuti La partita era finita Ma tu ti rendi conto Dalla differenza Sul 2 a 0 Quel gol lì Non lo prendi Capito Per mettere tutti i difensori Che vuoi Ma Tonali Inizia a non prendere il primo E lo fai Sotto shock Prendi primo gol Sei sotto shock Con un atteggiamento diverso Magari non prendi primo gol Per me il secondo L'errore grave Ma lì vedi A prescindere dai giocatori Che ci sono Gli interpreti Cambia poco lì Secondo me proprio Come squadra Come blocco Siete entrati Uno ha fatto un po' la gita Quegli altri Non affamati I miglior milan Quest'anno Un paradosso Nel primo tempo col Torino Quando non giocano i titolari Nel primo tempo col Torino Non subisci Produce poco Produci poco Ma sei squadra equilibrata Il Milan quest'anno Ha giocato con la Juventus Con Pobega Al posto del trequartista E Brian spostato sulla destra Ed è andata meglio È andata molto meglio Il Milan ha battuto la Juventus Meritatamente Andrea quest'anno Io direi Parlando di tutta la stagione Non solo del 2023 Perché noi intanto Ci mentiamo Che il Milan Esce da Empoli Con tre punti rubati Rubati Scusate Strappati 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 al novantese Non rubati Strappati al novantesimo Con la Fiorentina Ha vinto Strappando i punti Nei minuti finali Con lo Spezia Strappando Nei minuti finali I problemi c'erano anche prima I problemi c'erano anche prima E prendi sempre gol Questo è un partito Dove hai sempre preso gol Solo quattro clean sheet In campionato C'è qualcosa di grave Io non penso sia solo il portiere Non penso sia solo il portiere È una questione proprio di squadra Di una solidità E per chiudere Sul discorso appunto Che hai detto Della squadra Che il Napoli quest'anno Sembra il Milan Dall'anno scorso Il Napoli quest'anno Metteva in campo Raspadori Simeone E segnavano pure loro Cioè loro riescono a segnare Anche quando vengono chiamati In causa così Magari Se tu in questo momento Avessi avuto Raspadori e Simeone Come riserve Non facevano Ma il Napoli è forte Ma il Napoli è forte Perché in questo momento È più squadra di tutti Sì quello sicuro Però Simeone Simeone fa la terza punta Lì Fa la terza punta Lo scorso 18 gol a Verona Fa la terza punta Se lui ti dice Se metti Simeone nel Milan Lo metti titolare nel Milan Se metti Simeone nel Milan Non funziona Ma terza punta Tu chi hai? Terzo centramente Chi hai te? Ti hai il terzo Dicendo una cosa diversa No no Se metti Simeone In una squadra Che funziona Funziona Se metti Simeone In una squadra Come il Milan di oggi Non la becca per lui Però non sottovalutare Il fatto che Siamo giocatori forti Il Napoli È una squadra forte Lo so Poi dopo è squadra Non lo neco È un'orchestra Però se ha giocatori forti Mario Rui dove giocherebbe? Titolare nell'Inter Nella Juve Ma era una metamorfosi Di Mario Rui Mario Rui è un ottimo giocatore Kim giocherebbe titolare Nel Milan Nell'Inter Nella Juve Nel Milan giocherebbe titolare Kim Certo che gioca Kim Kim è forte Oggi Ma te non ti fai abbagliare Dal nome Kim Si chiama Kim Non gioca Kim è giocatore forti Ha fatto vedere Forti Però perché lo stiamo vedendo Le aspettative su Kim Non erano queste Però il Napoli Giuntoli Ci ha messo due minuti A comprarlo Vuol dire che erano sicuri Che era il giocatore Di affidabilità Anche Maldini e Massara Hanno speso 35 milioni Per De Keter Si però hanno speso Anche per altri giocatori Che poi si sono rivelati buoni Però Appunto Non è che siccome lo fanno Per forza va bene Però lui è andato Talmente certo Il titolare doveva fare il titolare Infatti Chi si aspettava il Napoli Con quelle partenze Potesse essere Politano nell'Inter Nella Juve Giocherebbe titolare Politano no 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 Politano no Politano nel Milan si Da quella parte lì Quindi vedi Quest'anno Lo scorso anno Ma loro hanno Oh ma ragazzi Non hanno osimè Che il mio centra Avanti è il campionato C'era loro Ok Karashvili è il giocatore Più forte che c'è In Serie A Ok Ma si era spaccato Ha giocato le sue partite Quest'anno Napoli Ma ha fatto Racmani giocherebbe Perfetto Doppio a cifra Ma giocatori forti Pino Racmani e Meret Giocherebbero le solari Nelle due milanesi Nella Juve Meret sicuramente Io ho dei grossi dubbi Meret adesso Ma cosa vuol dire questo Che allora sono molto più squadra Loro sono molto più squadra Delle due milanesi Delle Juve Mario Rui la vedi Ma sono giocatori Ma non sono giocatori scarsi Mario Rui Ma nessuno sta dicendo Che sono giocatori scarsi Ma ce ne hanno tutti È cambiato da così a così Ma i due e tre Ma i due e tre In testo E lo vodka No 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 Lo vodka Quando ti parlo in Spagna Ti dicono che era un giocatore Veramente forte Infatti non ha comprato Nessuno in Spagna Non ha comprato nessuno in Spagna Ma se Napoli vince Lo scusate Si monta la testa L'anno prossimo Mario Rui torna a essere Quel giocatore Come i nostri Stanno tornando a essere Giocatori quasi normali Ma certo Ma no Ma non è vero C'hai tantissimi giocatori forti Tu l'ho detto anche prima Sono forti Sono 4 o 5 Che giocherebbero Una squadra a squadra Anche il giocatore mediocre Diventa forte Ma se non è squadra a squadra Il giocatore mediocre Diventa ancora più Della Messias l'anno scorso Ha fatto il suo Perché era a squadra Ma io l'ho mai considerato forte Messias Però l'anno scorso Se vai a vedere il suo L'ha fatto Però l'anno scorso Tu avevi che sì Fortissimo E non l'hai sostituito Bravo Secondo me è anche dietro Il portiere non ce l'hai Altra senza presenza Che poi al Milan ultimamente Cioè nell'ultimo periodo Poverino Non era riuscito più a rendere Per quanto ci si aspettava Ragazzi alla Lazio Mi era di Dio Romagnoli Davvero? Eh c'è Beh Prima parte del campionato Se fate le partite Non era un titolare del Milan Non era più titolare Ho capito Ma io alla Lazio Ho visto Romagnoli giocare Sì però Che sì è pesante come il nome Ragazzi Romagnoli Ieri i tomori Per vedere il tomori di ieri È meglio Romagnoli Se vedi il tomori di ieri Anche Palette è meglio Però vedevi anche il Romagnoli Nel Milan Sì però secondo me Poi c'è stato un periodo Che anche al Milan Non aveva fatto così male Sì è abbastanza bene Però scusa Il sostituto qual è? Gabbia Gabbia Il sostituto oggi Chi è? Eh? Ma chi è? È Gabbia Giochi con tomori e calù Doveva essere Kier Che se non state commesse Errori di valutazione È evidente Però hai preso Quello che dico Adesso però Devi andare in pubblicità Sì Torniamo tra poco Restate con noi Rieccoci rieccoci Salutiamo anche Vittoria Che è da casa Grande Vittone Grande Vittoria Vittoria è in forma di tirambi Ci sarà anche stasera Top player Davvero grande Mi ha appena scritto Il Milan è come il melone Stasera spiegherà Ah l'ha detto anche ieri Sì sì Ma è un cavallo di battaglia Sta già detta Ah bella questa Ma quante volte 15-16 Tornando sul Milan Non mi fai ridere Perché se no Stoppateli sta risata Perché quando iniziano Un attimo Seri Tornando sul Milan La scintilla si può riaccendere? Guarda io Provocati magari un po' Dalle dichiarazioni di ieri Piacentini diceva Di Cialanoglu Di Bastoni Di Geco A che cosa ti può aggrappare Sinceramente dicevo a nulla Ma adesso Dopodiché Dopodiché Possiamo provare Dobbiamo trovare un appiglio Perché Pioli ha sempre detto Io ho messo nello spogliatoio Ho stampato Certe dichiarazioni Certi articoli Ma l'anno scorso L'abbia fatto l'anno scorso Possiamo trovare un appiglio Spero Per ritrovare Argoglio Amor proprio In quel post partita di ieri Nelle frasi di Bastoni Di Cialanoglu Andrea Io fossi il mio Ripartirei da Un secondo posto Perché comunque Numere alla mano Per quanto la situazione Adesso sia un pochino complicata Sei secondo Ebbè quello è E di conseguenza È dinamico il campionato Non è che ci sono secondo E fermiamo il campionato Però tu pensai Essere in questa condizione Psicologica Sesto, settimo Cioè Lì diventa pesante Secondo lo eravamo anche Una settimana fa E non ci siamo ripresi Comunque Trovi La scintilla Io credo che questa Possa essere No Però io fa ne capire I giocatori Da squadra più scassate Della Lega Ci credo poco Cioè Finno L'hai mai visto? L'hai mai visto il film? Bellissimo Film fantastico Cioè Uno dei film Leggendà Sì Loro avevano messo su Un'altra cosa Però Comunque Vabbè Io queste cose qui Di queste robe affisse Sullo spogliatoio Credo fino a questo Corso anno ha funzionato Allora ha più fame Anche C'è anche molta più fame Ha dato da mangiare così Ha dato Ha creato appetito Però a me fa sorridere Ma come diceva Ieri Un altro amico Un anno non è uguale A un altro anno Esatto Ieri però L'Inter cosa dice? Siamo scesi in campo Ricordandoci Dei loro festeggi È l'ultimo derby Perché l'ha perso Quell'altro derby Il campionato Scusa Scusa Cosa spero Sarei sceso in campo io Esatto La reazione cos'è? Dopo due derby Dopo due derby c'è una reazione È il karma che fa giri immensi Poi ritrovano Come certi amori Però io spero che Siccome in questo momento I giocatori Scendono in campo Scendono in campo Senza orgoglio Senza amor proprio Spero che questa Possa essere la scintilla Per fargli trovare Un po' di Quel sacro fuoco Che hanno perduto Sì ma tu da tre ore Che non mi hai ancora risposto Io oggi ti ho detto Che il mercato È il grande responsabile Ti ho detto Tutti i sostituti Ti ho detto I tre sostituti E non mi hai ancora risposto I tre sostituti Non sono arrivati i sostituti Guarda che Allora tu non hai capito Partiamo allora dall'alto Già che ci siamo Facciamo una cosa fatta bene Proprietà Io vedo un nuovo proprietario Che non parla di Milan Da mesi tre Non sento Non vedo Non sento una dichiarazione Da mesi tre Posso dire una cosa Ma perché ieri Forlani era con Zang Perché rappresentava lui La proprietà Perché mancava Ed era insieme Con tutti quelli dell'Inter No perché lì erano I due proprietari Che erano sul trono Uno era Zang E l'altro era Non c'era anche altri Dell'Inter Poi a destra C'erano anche quelli del Milan Però loro erano inquadrati Come i due I due capi Ma il proprietario Non c'era Questo è grave Perché è il primo trofeo Che tu puoi vincere Ora chiaramente Non sarai il principale tifoso Del Milan Però devi salvare la forma Devi far capire Che non è soltanto soldi Ma è anche passione E far sapere che E far sapere che Sai New York A vederla con la maglia numero 10 È una presa per i fondelli Per quanto mi riguarda L'anno scorso C'era Gazzidis Tanto bistrattato Gazzidis Era comunque L'emanazione Fisica presente A Milanello A casa Milan Quest'anno Furlani Si deve ancora accreditare Secondo me A casa Milan E agli occhi Anche dei tifosi E del gruppo stesso Dei giocatori Dopodiché Dirigenza Dirigenza Quest'estate A oggi Va detto Giudichiamo oggi Poi magari da domani Svoltano Ha completamente Sbagliato il mercato E non è vero Che è un mercato In cui sono state spese Risorse zero Ha speso 35 per decchettelare Ha fatto altre scelte sbagliate Oggi Non c'è nessuno Che minimamente Si avvicina A essere titolare del Milan Ma perché non li hanno sostituiti? Cioè io non ho capito Perché gli obiettivi Che si erano messi in testa Poi non hanno più sostituiti? Questo me lo chiedo pure io Perché Maldini Dice sono garante Ci vogliono due o tre acquisti E ti limiti a un acquisto Vado oltre Perché quando tu ti accorgi A novembre Che non avrai Menian per 3-4 mesi Il 3-4 di gennaio Contro la serenità Ti devi presentare Con un nuovo portiere Conociole Non devi avere la presunzione Di tanto contattare Usano ce la faccio Non devi andare Due settimane fa I microfoni E dire con orgoglio Non faremo nulla Ma cosa doveva dire? Cosa doveva dire? Con orgoglio? Cosa doveva dire? Cosa doveva dire? Siamo attenti alle opportunità Vediamo che cosa succede Vabbè Ma tu l'hai vista l'intervista? L'ho vista Che bello Non compriamo nessuno No Tu il portiere lo devi prendere Tu il numero 9 Vedendo quello che sta facendo Giroud Che purtroppo non ce ne ha più Rebic e l'altro Devi dire Se ci saranno delle esigenze Interverremo E le esigenze oggi ci sono Oggi serve una terapia d'urto Serve anche un segnale per i tifosi Comprate qualcuno Ma non un qualcuno a caso Mi avete detto Però fammi finire 28 minuti Fammi finire Ti rispondo bene alla domanda Mi avete detto Minan non ha sostituito che sì Maldini mi ha detto Servono tre giocatori E prendene uno oggi Il mercato è di riparazione Va riparato il Minan? Sì Fallo Però scusa Ti posso obiettare Adesso posso Il mercato non è la soluzione Il mercato non è la soluzione Di questi problemi Che ci sono adesso Ma portiere il mercato è la soluzione Però scusami un attimo Del numero 9 che manca è la soluzione Però scusami un attimo Però tu ti dici Ti puoi investire Maldini cosa fa? Non investiamo e vinciamo lo scudetto Ma l'anno scorso era stato firmato il 7 mila A gennaio Ti chiedo A gennaio Non aggrapparti anche tu A gennaio Seguimi per un attimo Perché se no Ti seguo Ti sto seguendo attentamente A gennaio dello scorso anno Elliot dice Ci sono 10 milioni Lo racconta Maldini Maldini dice No no fa niente Vinciamo comunque È un azzardo Che poi ha pagato Quest'anno Secondo me Dalla proprietà Quei 10 milioni arrivano Però non devi passare con orgoglio Il concetto che il Milan Non fa mercato Che bello La sostenibilità Se tu spendi 10 a gennaio Lo puoi fare Non è una vergogna È riparare Possono essere d'accordo Cioè te ti stai No delle due l'una Perdonami Non mi aggrappo Tu mi dici Ragioni come tifoso Mi stai aggrappando A una suggestione Fammi finire Ma se Maldini Non l'ho detto io Se Maldini dice Ne servono due o tre Seguimi per un attimo Perché se no Continuo a andare per la testa Ti seguo Seguimi Se Maldini dice Non Andrea Longoni Se Maldini dice Servono due o tre giocatori importanti E ne arriva solo uno Oggi Nella testa di Maldini Per quanto mi riguarda Il Milan è Monco E allora completiamolo Maldini quando dice Quelle robe lì? Quando le dice? Il 27 maggio Ma tu l'hai sentita l'intervista? Certo Lui dice Resto solo se il progetto è vincente Ne servono due o tre Ma poi Ma mi risulta che poi Mi ha firmato il rinnovo del contratto E mi sono sbagliato A tutto che ha firmato il rinnovo di contratto Ma allora cosa? E cosa può fare? Cosa può fare adesso? Si mette di traverso? Ma tu conosci qualcuno Che firma un contratto E poi dopo un po' Si mette di traverso Ma tu non ascolti Vai per la tua strada No io vado No perché ho un'idea Che il Milan è completo O è Monco? Te l'ho detto prima io E allora È Monco secondo me E allora Perché non intervieni sul mercato Se il Milan è Monco Perché servono i soldi Evidentemente in questo momento Ci sono delle esigenze Che non puoi Ti segnalo che nel mondo Secondo me Una decina di milioni Per spenderli Adesso ci sono Ma ci sono anche Giocatori in prestito Perché ad esempio Il Napoli Va a prendere Un giocatore Come il Dombele In prestito Ma questo è successo Però nell'ultimo mercato Cioè loro a gennaio Ha preso Berezischi Cosa credi che a gennaio Non puoi prendere Perché l'Inter Forse prende che si in prestito Forse ancora non è successo Perché il Milan Non ci prova con altri Perché è presunzione Ma no ma figurati Se lui potesse Ma cosa accade Ma scusa un attimo Perché dovrebbero cambiare Le esigenze di mercato Sulla base della presunzione Lui Se avesse la possibilità Di spendere Ma no Se mi ha vinto il campionato Con questa squadra Però mi devi seguire Eh no però Mi stava dicendo Che così non spendi Sei tu che continui No tu devi seguire me Così non spendi Se le esigenze di mercato Non sono cambiate Servono Servono i danesi Mi arrendi Manca anche un dettaglio Il Milan ha da poco Cambiato proprietà Una proprietà Che appena ha compratto il Milan Si fa dare i soldi In prestito Da chi sta vendendo E spendi così poco Ragazzi ma Cioè onestamente Qualcosina in più Però scusate Ma il 7 Mela Grime Chi l'ha firmato? L'ho firmato io Ma cosa c'entra il 7 Mela Grime? Ma cosa? A parte che quando arriva Una nuova proprietà Più flessibilità Quindi non ha grattato Il 7 Mela Grime E' lì L'ha firmato Tranquillo Se spendi 10 a gennaio Non c'è nessun problema Ma non dare messaggi Che non sono giusti Non dare messaggi Non parla ma di 7 Mela Grime Se lui ti dice Siamo a posto così Non arriva nessuno Vuol dire che Evidentemente Le esigenze di mercato Che c'erano Non ci sono più Te l'ha detto lo scorso anno Quando Elliot Ti dava 10 milioni Sì allora potranno farlo Se lo potranno farlo Lo faranno L'anno scorso E allora sì Non possono farlo Non vogliono Non è vero Perché l'anno scorso Come ti ricorda giustamente Andrea Il Milan aveva la disponibilità economica Fermo un attimo Però Non si riesce Il Milan aveva le possibilità Finanziare per fare un investimento Ed era quello Che loro dicevano A chi fa il mercato del Milan Ai ragazzi che seguono I colleghi Poi alla fine Decidono di non farlo Bravi Hanno vinto il campionato Però Se vince il campionato E diventa tutto bello Se non l'avessero vinto Gli avrebbero detto Però questo lì potrei investire Da lì Le possibilità economiche Per prendere uno in più Quest'estate E non solo Sto decatelare Che poi alla fine Non ti è riuscito Ce l'avevano Ragazzi Non è così Ma non è così Ma non è così Quest'estate lo puoi fare adesso Perché loro No Perché loro No Perché ad agosto Loro Le operazioni di mercato dispendiose Le hanno fatti Tu puoi ragionare Sulla bontà Dell'operazione Ascolta Quando si parla Di finanza fair play Un discorso che interviene Dopo Ma non ne parla Maldini Di finanza fair play Ne parla di tutti Perché sa che è abbastanza spinosa Ma cosa stai dicendo Fermiamoci un attimo No Fermiamoci Alfio Fermiamoci per la pubblicità Riparto da te Così sei carico dopo Rieccoci rieccoci in diretta Alfio riparto da te No Stavo dicendo Che ci sono mille modi Pino continua a parlare Di fair play Non è una favola Nessuno dice che sia una favola Ma a me lo dici Io ce l'ho Io sono messo peggio Però dico che dal punto di vista economico Non stiamo parlando di un acquisto Da 30, 40, 50 milioni di euro Stiamo parlando di Acquisti normali Come ci ha abituato a fare il Milan In questo periodo Ma come sta facendo anche l'Inter adesso Tu hai mille modi Dal punto di vista Tecnico Per poter Prendere un giocatore Iniziare a pagarlo Tra qualche anno Alfio qual è il mantra però? È una balla No non è una balla Qual è il mantra? Qual è il mantra? Non è una balla No non è una balla Qual è il mantra? Qual è il mantra? Esce uno Entra uno Non hai capito Funziona così Te lo rispiego Funziona così È una balla Perché Quando oggi Alcuni associati dicono Alfio fair play Fair play Tu il giocatore lo puoi tranquillamente prendere Stiamo parlando dei giocatori Dal valore economico contenuto E pagarlo Iniziare a pagarlo Io parlo solo di prestiti Figurati Io di quello sto parlando No Dico lo puoi fare Ma entra uno Esce uno Ma allora se abbiamo tutta questa Ti segnalo che probabilmente Bakayoko Finirà il suo contratto con il Milan Già a gennaio Ti segnalo che Allora potrà succedere Che entrerà qualcuno Allora entrerà qualcuno Adrillo puoi far partire in prestito Tra cinque minuti Ma funziona così Non è che te lo insegno io Ma cos'è È una cosa insormontabile farla Ma forse non ci siamo capiti No non ci siamo capiti Se loro trovano la formula Per far uscire una persona E far entrare un altro Lo fanno Ma lo devi Il problema è che c'è Interplay finanziaria Non è la roba che sono inventata adesso La favoletta Non ci stai neanche provando Pino Non ci stai neanche provando Tu ci credi Io non ci Secondo me se c'è l'opportunità Quello loro qualcosa la fanno Bah Se ci fosse stata questo discorso Maldini avrebbe detto Vediamo se c'è l'opportunità Se c'è un'esigenza Maldini Tu non hai visto quell'intervista Ripeto Ma le altre squadre italiane Cosa stanno facendo? Le altre squadre italiane Tutte che siamo in mezzo Navigliano nel loro Però al Milan I giocatori servono Ah le altre no invece All'Inter non servono All'Roma non servono Intanto vedo Napoli Che ha preso Berezischi Ma Napoli Infatti è l'unica Che non è È l'ultima Che non ha problemi Di Settremi Però Andrea Parlosamente Settremi e Grimit Pino Settremi e Grimit Seguimi anche tu Se no non si riesce a dialogare Vale Te l'ha spiegato Alfio Se ti chiedo un giocatore da 30 Ma tu in questo momento Il giocatore in prestito Ma ma tu non hai capito E fai uscire un altro in prestito Ma non è quello il problema Se lo fai uscire Fuccede Ma se lo vuoi fare Lo fai in tempo zero Ma non lo vuoi fare No non è così Non lo vuoi Anche se poi non lo vuole fare Ma ti spiego il perché Paradossalmente A parte che secondo te È stato vinto anche qui Paradossalmente In maniera prematura Il campionato Se aspettavano che magari Lo vincesse quest'anno il Milan Invece l'hanno vinto l'anno scorso Maldini dice La mia squadra è campione d'Italia È un gruppo che ha vinto lo scudetto Mi pare un gruppo comunque vincente O comunque ha le competenze Per arrivare fino in fondo In testa della classifica Può magari peccare Le presunzioni Dire perché devo andare A comprare qualcuno Se compro qualcuno Faccio in ottica futura E lo ha peccato De Kettler De Kettler Poi lascia stare Come è andato l'investimento Ma il ragionamento Che ha fatto Può essere questo Siamo tutti dicendo Che il Milan Non ha sostituito Che si Che è più debole Dello scorso anno Allora E la pecca sai dov'è? Approfittane Ma anche per dare un segnale La pecca sai dov'è? Che tu l'hanno prima Hai vinto lo scudetto E non l'avevi sostituito Ma Maldini Quindi lì ti sei fatto forte Hai sostituito Donnarumma Con un portero Che non conosceva Ma Maldini Non ha fatto questo ragionamento Che stai facendo te Lui ha detto Ha detto quello che ha detto lui Cioè lui Quando fa l'eliterista La gazzetta Dice mi servono tre giocatori Qual è il problema Che limita i tre giocatori? Il budget Altrimenti lui avrebbe preso Botman Avrebbe preso Sanchez Avrebbe preso De Kettler Controbiezione Tra Botman e Ciao Ci sono mille giocatori E sono d'accordissimo con te Tra Renato Sanchez Sono d'accordissimo con te Che tra l'altro non gioca mai E Vranks Ci sono mille giocatori E infatti è la cosa Che muovo contro Maldini Ma l'estate precedente Cosa ha fatto però? Aspetta Ma Pino L'estate precedente Cosa ha fatto Maldini? L'estate precedente E chi ha andato a prendere? E Mignan pagandolo poco No Sto parlando di questa Ha preso due o tre giocatori A parametro zero Comunque prestiti Che investimenti ha fatto? Pino Al Chelsea I giocatori in prestito Per sei mesi Che li danno? Sì Che il Chelsea Non ti fa così tanti sconti Il Chelsea Ha speso 400 milioni di euro Se tu vai dal Chelsea Una volta due La terza volta Secondo me Un giocatore centrocampista In prestito Che loro non utilizzano Per sei mesi Ma hai visto quanto guadagnano loro? Guarda Per sei mesi Ma se vai dal Barcellona Che adesso deve abbassare Il tetto salariale L'Inter ci sta andando Se non è che sì C'è qualcun altro Un esubero Che al Milan gioca Don Belè Era anche in estate Meno male Che non l'hai preso Meno male Oggi sarebbe titolare Ma lascia perdere Infatti Don Belè Infatti Don Belè Non vede mai il campo Gioca sempre Perché davanti C'è anche il Sao Perché gli altri funzionano Davanti C'è anche il Sao Don Belè no Don Belè no Cosa vuol dire? Ma quello è un altro È una questione di contesto Anche Snyder e Robben Non giocavano nella Madrid Perché erano scassi No Non giocano mai qui Non gioca mai a Napoli Infatti gioca da Panchinaru Ma di te Quando prendi Florenzi Florenzi L'hai preso a condizioni favorevoli Cosa credi? Che un altro Florenzi Del centrocampo Dell'attacco non c'è Ma secondo te Perché ti manca il portiere La tua risposta Prendi un portiere sconosciuto Da 300 mila euro E non prendi Occiotto E non prendi Occiotto E non prendi Occiotto Ma scusate Stimaldini Sti ragionetti non li fa Cioè Siamo più bravi Ci sto dicendo Che c'è presunzione Ma no C'è presunzione Ma no Presunzione lo so Però boh Lo scorso anno Se tu ti danno 10 E tu non li spendi Però Andrea E poi ti paga questa cosa Però Andrea Se lui potesse farlo Lo fa Lo scorso anno Poteva farlo E non l'ha fatto E non lo scusate Adesso Secondo me Anche se non è Quest'anno Domina Ma anche quest'anno Voleva farlo Ma anche quest'anno Lui voleva fare Quello che dice Pino Lo voleva fare Perché voleva Botman Sanchez Ed Echett Non avrà avuto I soldi per farlo Sicuramente Lo voleva fare Però lui dall'altra parte Ti dice Ascolta Io però Ho vinto il campionato Sì Ma io ho E come fai Di attagli contro In estate Adesso davanti ai problemi Che ci sono Non puoi fare Come l'anno E lui ti dirà Vediamo a fine anno E poi hai scoperto Calulo difessore centrale Ma chi prendi Ma ragazzi Il Milan comunque Secondo E gli ottavi di Champions Vediamo a fine anno Ma chi prendi Fatemi dei nomi Chi è che Ziac è un giocatore Che potresti prendere Eh no Mi faccio io Pino Ziac è un giocatore Che potresti prendere Perché no Occiano 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 Poteva prendere A Milan Ma dove Occiano Occiano Che gioca Dall'altra parte Andrea Occiano Occiano Poteva prendere Il Milan Occiano Poteva prendere Il Milan Anziché andare A prendere Un portiere Occiano Occiano Però abbiamo detto Adesso lo diciamo Se lo avessi preso Al tempo Il nostro mestiere Non è fare mercato Depay 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 Ma Depay Sono giocatori In Italia Magari fa la differenza Al Barcellona No perché non c'ha voglia Paradossalmente Andare a chiedere Presto di Chessi Lo ritengo per sei mesi Ti fa schifo Perché no Ti fa schifo come roba Se non fosse Che Maldini E Attenerati Si sono lasciati malissimo Che c'ha ragione Magari succede Ad occhi chiusi Ma certo Tecnicamente Visto tutto quello Successo Ma ecco Immagina che Chessi Invece Giocava nell'Inter Ok E adesso Barcellona Non trova spazio Ed è possibile Prendere in prestito Secondo te Maldini Va a prendere in prestito? No Si serve secondo me No Non lo fa Non le facciamo Queste cose Perché sembra quasi Una vergogna Andare a ricorrere Sul mercato di gennaio A riparare Intanto scusatemi Sul profilo inglese Dell'Inter C'è posta per Maldini Perché postano Una foto di Cialanoglu E scrivono L'abbiamo veramente Preso a zero Volevo far vedere Anche le storie Di Zlatan Ibrahimovic Ma è quell'ufficiale Dell'Inter Eh sì Quello inglese Aspetta Specifichiamo Che i social British Cioè le versioni inglese I social Scherzano molto Su queste cose Se le dico È sempre clave Poi è vero Che è sempre Societale Io lo dico subito Potevano evitarsi Ha sbagliato Ibrahimovic Chi ha fatto cori Contro Cialanoglu Hanno strasbagliato Secondo me Aveva sbagliato Prima Cialanoglu Dichiarando Che finalmente In una squadra Vincende Tutto il resto Ha sbagliato Secondo me Ieri A tornare Poteva Doveva tornare Ieri Anch'io L'avrei fatto Ma secondo me Con un po' Più di stile Perché hai vinto Come hanno sbagliato Loro Chi ha fatto Quelle cose È stato più volgare Lui ieri Poteva evitare Di dire Magari Ce li siamo mangiati Li abbiamo rispediti A casa dopo Si è tolto Qualche sassolino Deve semplicemente Dire Ci sono rimasto male Per quelle cose Ma tutti Si volevano togliere Qualche sassolino Perché Quando lui Era lì In attesa Dell'intervista Passa di Marco E gli dice Te lo meriti Soprattutto tu E lo carica Poi ovviamente Lui dice Ma anche Bastogli Ci siamo segnato tutti Va bene Secondo me In questo caso Però È il club È peggio Che un club Provo Che un altro club Però questo è il profilo inglese Che cosa c'entra Non è il profilo italiano Non può abbattibeccarsi Sui social Non è il profilo italiano Non c'entra nulla Ma sui social Secondo te Un tweet del genere Non passa dall'alto Sì Però Sì Ma Fanno tanti Stai scherzando Questa è comunicazione Profilo Twitter inglese È un profilo di comunicazione E appunto per questo Tu sai che E stai prendendo in giro Di fatto Ma lo sai che A livello internazionale Scherzano molto I profili social Se io fossi stato Un rivale Me la sarei un po' presa Ma sì Mi sarei un po' bruciato Il peperone Lo sai che È un contesto Quello un pochino differente Ma no Non lo saprai tu Perché sei forse Disinteressato Rispetto a Milano e Inter Ma secondo me Quando la Rubin Kazan Carica il video Con Kvara Con la maglia della UE Fa Non l'hanno voluto Per 20 milioni Così Hanno pensato che fossero troppi Guarda che stupi Tra virgolette E metti il gol Che ha segnato Vuoi mettere i rapporti Rubin Kazan E Juventus Con quelli cittadini Milan Inter Ma è uno sfottò Andre Non è uno sfottò È una provocazione Che ripeto A livello di club Secondo me è sbagliato Sbagliano i giocatori Se lo fanno i club Secondo me fanno anche peggio Perché mi sembra Ci sia stato comunque fair play Da una parte Dalla Anche ieri in campo Io non ho visto C'è la Nooglu Quando è passato Inizialmente Se ha fatto qualcosa di particolare Se non ha dato la mano Io mi ricordo Ero lì al derby Vedere la parita Con Tio Hernandez Non sono andati la mano Ma ieri è stata tutta Una partita molto tranquilla Da punto di vista Fair play in campo Sono stati a parte All'inizio Una mezza scaramuccia Fiscava sei falli In due minuti Affischiata Ma poi è stata Una partita assolutamente Tranquilla Da punto di vista Del clima Tra i giocatori Vi voglio far vedere Per chiudere Diciamo il discorso Milan Cosa ha postato Zlatan Ibrahimovic 21 minuti fa Nelle sue storie Instagram Ma non ci rialzeremo Pensiamo alla prossima Partita Concentrati Business Non dorme mai Fele Eccetera Eccetera Posta a questo Padel Center Quindi adesso Business non si ferma Hai visto ieri anche col pallone Cioè A me non sorprende come cosa Ti dico la verità Secondo me ci sono Tempi e tempi Sicuramente In questo momento Lui secondo me Sbaglia Come sbagliava A farsi riprendere Paparazzare Al mare Quando Milan Comunque Aveva già ripreso L'attività Non è più la sua priorità Però Ascolta Non è bello Ma le è sempre Concesso Un posto E ti dico No davanti Siamo numericamente A posto Tornando al discorso Mercato E anche qui Ma quando dovrebbe rientrare Ibra Punto di domanda Ah non si sa Tre settimane Potrebbe essere Disposizione Due o tre settimane Però Sali 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 anche voi Il problema è che si è parlato di un Non una ricaduta Ma Si cos'è Si gonfia La zona dove è andato a intervenire Si gonfia Non si sforza Secondo me Se Oggi Io ti direi Marzo Col Tottena Ma ritorno 8 marzo Io non penso neanche col Tottena Ma io penso 5 minuti Ieri Però Hai visto comunque Un Rebic più attivo Questo bisogna sottolinearlo Dai Insomma È un giocatore che ti è mancato Praticamente Capisci che in questo momento Non ti puoi aggrappare a Rebic Quest'altro ti devi aggrappare All'identità di squadra Che è una cosa che tu Che non c'hai Stai venendo meno Perché È anche un concetto che Per fortuna Ti dico Per fortuna Vuol dire che non si bada tutto Solo sui nomi Per fortuna Sta venendo fuori anche a livello europeo Perché l'hai visto anche con le squadre inglesi Cioè l'Arsenal è il primo Ma meritatamente E se Qua dentro chiediamo Chi sono i giocatori dell'Arsenal Molti non ti sanno rispondere O il Newcastle Sta venendo fuori come Grande squadra Poi hanno delle spese eccessive Il Barcellona stesso Sta venendo fuori molto bene Come concetto di squadra Si lamentavano della media punti di Ciavi Devi ritrovare quello Il Napoli è venuto fuori Perché fortunatamente Sta sviluppando l'entità Il Barcellona ha fatto gli investimenti Mica da ridere Sì sì Ma non è stata l'unica Capito Poi lì hanno anche altri soldi Capito Inizia a spendere Centinaia e centinaia di milioni È diventato un po' facile dopo È vero È più difficile farlo Quando devi Anzi o quanto carica L'ambiente questa vittoria Anche poi In ottica Campionato Leggevo le dichiarazioni Della gente di Lautaro Martini È una bella È una bella iniezione di fiducia Perché Abbiamo tanto criticato Io non sono mai stato morbido Con Inzaghi Però Dai 24 gol In 17 partite L'Inter nelle ultime 7 Ne ha vinte e 6 Pareggiata una Ed è quella di Monza E tutti sappiamo come l'ha pareggiata Sennò sarebbe stato Sarebbe stato un plan 7 su 7 vinte E La differenza dei gol È importante 24 gol segnati 6 subiti L'incidenza è sostanziale Il cambio di rotta è evidente Poi Comunque Un trofeo lo porti a casa Il secondo anno di fila Che vince una supercoppa Anch'io farei sempre scambio Uno scudetto Con 20 supercoppa E 30 supercoppa Questo è evidente Però Bisogna essere realisti L'anno scorso Secondo me Inzaghi Gli è servito Per fare un po' Di scuola Per imparare Già un po' di pressione Mi auguro che da qui in avanti Abbia capito Come gestire un po' meglio La situazione Però al periodo di adesso Che cosa gli vuoi dire Comunque è impressionante La capacità che ha Di far finale E vincerle È una roba impressionante C'è davvero Infatti lo dicevo prima Quando guardavo un po' I Coppa Italia Così Speriamo di non incontrarci In finale Caro Alfio Perché se no Finisce male Anche stavolta Con Inzaghi Che è re di coppe Non pensavo Invece è veramente performante Una partita secca Magari nel percorso lungo Un po' più problematico Ma una partita secca E micidiale Mi fermo per la pubblicità Torriamo tra poco Restate con noi Rieccoci Rieccoci in diretta Parliamo anche di Juve Juve che stasera Sarà impegnata In Coppa Italia Contro il Monza Non è scontata Non è scontata Dice la luce anche Del Milan col Torino Del Napoli L'Inter col Parma Sì Però alla fine Si sono qualificati Sì però Si tende a sottovalutare Come sempre Questa manifestazione In maniera ingiusta Io ho visto L'anteprima Della formazione possibile Probabil 11 Che gioca l'Under 23 Sostanzialmente Cioè Healing Sule Come esterni Poi su Le Sappiamo che È stato bocciato totalmente A Cremona In quella posizione Lui ha delle ottime qualità Ma deve esprimere più avanti Non da quinto di centro campo Ma Vlavic non rientra ancora Vlavic no Ieri hanno fatto un test Una partitella Amichevole Con una squadra elettantistica Lui e Pogba Erano in campo E anche dalle immagini Che sono trappelate Sui social Li ho visti comunque Abbastanza Messi bene Abbastanza Quindi magari Già domenica Magari domenica Sono a disposizione Sì Però è ovvio Che Sono lavorando in gruppo Sì sì Lavorano in gruppo Clinicamente Sono guariti Vuol dire che comunque Sono a disposizione Ovvio che devono Riprendere la marcia Eccetera Oggi però Vedi Su Le da una parte I Ling dall'altra Fagioli Miretti Gatti in difesa Ci sono tanti cambi Molto molto giovane Quindi il Monza Può giocarsela Anche se il Monza Secondo me Andrà a fare dei cambi Quindi ci saranno Delle sostituzioni Perché Palladino Molto intelligente Sa comunque Che è una partita Un po' complicata Ma anche se Dovesse passare il turno Poi Cosa Cosa Sì Adesso andiamo Sulla carta Di Ronaldo No non era Riferimento Perché Il Monza Sa che comunque C'è anche una partita Importante Cosa suolo Importante Cosa suolo Un po' in crisi Il Monza fa questo ragionamento Passo stasera Ma magari non Metto la Coppa Italia Quindi Il Monza ha anche Delle ottime riserve Però la Cremonese Ha fatto un ragionamento Invece opposto E ha avuto Una grande soddisfazione Aspetta La Cremonese Va appena che Mi ha tornato l'atore E c'erano delle motivazioni diverse Io penso Che Palladino Secondo me Se la va a giocare Alla grande Io ti dico Che non sono convinto Che la gioca Alla grande Anche a Udine Aveva fatto una bella prova Sempre il Monza Sempre con Palladino E sempre con una squadra Un pochino Ma cos'è Ma la carta è caduta Sta carta Caccavollata Andiamo sulla carta Di Cristiano Ronaldo Perché questo è quello Che ha pubblicato Il Corriere della Sera La carta di Ronaldo Che è in guai Alla Juventus La vediamo La carta di Cristiano Ronaldo Egregio Cristiano Ronaldo Ronaldo Do Santo Savero Quindi è indirizzata a lui Nell'oggetto Vediamo Accordo Premio integrativo Scrittura integrativa E poi si legge anche Il contenuto della carta Fa riferimento Leggiamo proprio Quello che c'è scritto Facciamo seguito All'intesa intercorsa Uniamo alla presente Il documento relativo Al premio integrativo Riconosciuto a suo favore E l'ulteriore scrittura integrativa Dell'accordo Premio integrativo Nel confermare Gli impegni assunti Nei predati documenti Ci impegniamo altresì A consegnarvi Entro il 31 luglio Del 2021 L'accordo Premio integrativo E parliamo dei 19 milioni Ritrascritto sui moduli Federali Altre scrittura Ad oggi non disponibile La scrittura integrativa Debitamente sottoscritta Firmata Fabio Paratici Ok Firmata Fabio Paratici L'ha firmata Ronaldo? No Ronaldo non l'ha firmata Magari Anche perché è stato Suggerito Da persone di fiducia Eccetera Ma non è stata Firmata da Cristiano Ronaldo Quindi evidentemente Lui Non E quindi però chiedo All'esperto Vaccaro Non ha valore O ha valore Perché non è stato Firmato da Ronaldo Questo non te lo so dire Però di base Questo verrà stabilito Questo verrà stabilito Perché verrà stabilito? Perché nel momento In cui poi ci sarà Non so che tipo di rito Loro Nel caso in cui Dovessero essere Rinviate giudizio Perché se ne parlerà Il 27 di marzo L'udienza Quando verrà Questa carta Verrà spiazzata lì Il giudice sentirà Le motivazioni Da una parte all'altra E a quel punto Si capirà effettivamente Che tipo di valenza Mi ricordo hanno fatto sapere Che il calciatore Non ha mai visto Quei documenti E che non ne possiede copia Infatti Sai che potrebbe valere zero Sai Se fosse così È un'intenzione Ma non è Se fosse così E io credo che i documenti Anche quando firmiamo Devi firmare tutti e due Se no il valore È un'intenzione Perché lui Giustamente Se già I legali Poi si parla Si parla di premio Non è mai stato depositato In lega E quindi Però si parla di premio I legali dicono Non ne sapeva nulla Fede I legali dicono Si parla di premio È come se fosse un premio Produzione Scusami Matteo Vi leggo quello che scrive Il Corriere della Sera I magistrati Hanno provato a chiedere Conto dell'accordo A CR7 Attraverso un arrogatore Internazionale Ma l'attaccante Non si è mai presentato Dai PM I suoi legali Hanno poi fatto sapere Che il calciatore Non ha mai visto Quei documenti E che non ne possiede copia Nelle scorse settimane Gli avvocati Hanno chiesto al GUP Di poter accedere agli atti In particolare A quelli che ricostruiscono La famosa carta Allora io Se non l'ha firmata Eh ragazzi ma qui Cioè qui bisogna capire Quante ne hai vissute di queste No della carta Ronaldo Carta Ronaldo mai Però Però la carta Giacomini Non so Tantissime E su queste cose Bisogna andare molto cauti Bisogna andare molto cauti Ripeto Sono documenti che verranno Discussi Sia da una parte Che dall'altra Poi sarà il giudice A stabilire effettivamente Se ha una valenza Ma secondo me Ronaldo Comunque Ronaldo Prima di Ronaldo Che del club Juve Che del club Juve Ha veramente tantissime problematiche A affrontare Ronaldo Mi sembra Del tutto spensierato Su questo argomento Ma Ronaldo non è indagato Non è nessun tipo di problema Deve solo ricevere Con tutti i soldi Che guadagna Anche se Non gli sono arrivati subito Li arriveranno tra Due mesi A lui non cambia la vita Non avere 29,5 milioni Non è Leao Ronaldo ne ha tanti altri Ma lui non ha neanche Ripercussioni di crattere penale Quindi alla fine Che gli frega Vediamo che ripercussioni Ci saranno domenica Sulla Juve Vabbè Che guadano un po' a tutti Per scontata Oltre alla gara di stasera Che è sbagliatissima La gara di domenica Con l'Atalanta Occhio Perché nel giro di otto giorni Tu puoi passare dal secondo posto Al quinto E cambia un po' tutto Non dici queste cose a Longoni Non dici queste cose a Longoni Che poi cominci a tremare Perché è martedì La classifica è molto corta C'è una partita seria L'allenatore della Juve Si valuta se i risultati Occhio In pochi punti Ci sono sei squadre Quindi Comunque Ci sono approcci importanti Quindi posso guardare Anche io la Champions Perché c'era qualcuno Ieri C'era qualcuno Che mi diceva Se vinci Se vinci con lo Spezia Te devi augurarti Della vittoria del Milan Perché così almeno Tu supprì la lana Questo è un miracolato Per quel giro Capito Questo è un ragionamento Il tuo obiettivo stagionale Qual è? Entrare in Champions Allora Fai parte della corsa Per la Champions Come fai parte Per la corsa della Champions Con la Juve No perché qualcuno dice Per arrivare qui Per arrivare qui Tu battere la Lazio Ah lo sai Sei un miracolato Mi piace quando mi chiami Miracolato No però ci sono Due incroci Che rischiano di Sconvolgere totalmente La classifica L'Inter si spiega le mani Perché è quello che ha L'impegno in più sempre Adesso il trend La spinta C'è l'Inter Sì Ma cambiano le cose Più pericolose E più calme Come sono cambiate le cose Rispetto al primo gennaio Io dicevo Napoli gioca con la Salernitana Che ha confermato Nicola Però comunque Vediamo Perché magari Se hai giocatore Per sabato alle 18 Sarà una grandissima diretta Potremmo seguire Sì a tutto Il calcio 24 Poi dopo c'è lo scontro diretto Roma-Napoli O Napoli-Roma Andiamo al San Paolo Andiamo al Maradona Siamo in chiusura Vi devo salutare Saluto e ringrazio Pino Baccano Andrea Longoni Matteo Zordoni Ovviamente non andate via Perché la nostra programmazione sportiva È ricchissima Si continua Dopo la pubblicità Sempre qui Su Top Calcio 24 Quindi restate con noi Ci vediamo tra poco Arriva Serena Battistini Grazie a tutti